Chissà se in paradiso ci andranno in tutti, voracci ricchi e onesti e farabutti, ma pari vaggen sarà per tutti uguale, pochi con l'ascensore più plescale. Quando saranno davanti a quell'ingresso, ci aspetterà San Pietro con le chiavi, per controllare se siamo stati bravi, ci metterà da agnonso sto processo, a dire in tutti lo stesso ritornello, ho fatto questo ma non ho fatto quello, sono stato sempre onesto e non rubato, e da chi c'era bisogno l'ho aiutato. San Pietro che ormai ci ha abituato, per poter prendere le sue decisioni, farà il confronto delle affermazioni, con quello che risulta registrato, e in base a come sarà la risultanza, per ognuno alla fine sarà deciso, se è lieto che era un posto in paradiso, o al piano di sotto per fare penitenza, tutti i politici però fin dall'inizio, per mezzo di un decreto abbiamo deciso, che loro senza subire nessun giudizio, o temone entra dritti in paradiso, pensando di portare il servizio, quando San Pietro il seppiense scomposto, ha chiesto il benestare al Padre Eterno, e sa esitazione gli ha risposto, a casa mia per loro non c'è posto, mandi e li ha finiti tutti all'inferno, beh, chissà, 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 chissà se adesso interverrà il governo, chissà, chissà, chissà se adesso interverrà il governo, chissà, chissà, chissà se adesso interverrà il governo. Wey!